Chissà per quale motivo tutto quello che fa mi disgusta. A me in realtà un motivo viene in mente. Giusto, sì, perché lei non è più innamorata di lui. Esatto. Cosa hai detto, scusa? Becca, da come ti comporti sembrava che l'avessi capito. Oddio, forse la love vaga ragione. Barry ti fa impazzire. Non ti conosce affatto. Hai sposato l'uomo sbagliato. Sopre come tua madre. Amore, ti va del salmone? No, Barry, non mi va affatto il salmone. Scusa, stavo solo cercando di fare una cosa carina per te. Tutto quello che volevo fare era addormentare il bambino. Non ho lavorato tutto il giorno, non l'ho potuto vedere, non l'ho potuto tenere. Ok, ok, ho capito, sei super stressata. Io non sono stressata, è solo che... Solo che cosa? È solo che non sono più sicura di amarti, ok? Accidenti, l'ha detto davvero. Ragazzi, secondo voi adesso che cosa diavolo dovrei fare? Seguila! Ma fallo con i pantaloni intorno alle caviglie. Vuoi un altro po' di succo di papà?